Grande entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare e del direttore artistico Christian Lavernier per la 33esima edizione del concorso Rovere d'Oro, un appuntamento importantissimo per la piccola cittadina rivierasca come confermatoci dal sindaco Valerio Urso. Così deve essere perché l'anno della ripartenza, l'avevamo detto pochi giorni fa per il Met Festival e anche per il Rovere d'Oro vuole essere la ripartenza di questo straordinario e importantissimo appuntamento per San Bartolomeo al Mare ma per tutti quanti gli amanti di questo segmento di musica classica. Detto questo l'associazione Rovere d'Oro con la collaborazione del professor Lavernier ha messo in piedi un concorso a livello mondiale, siamo felici di ritrovare dopo due anni tanti e tanti artisti giovani che provengono dalle parti più disparate del mondo, più lontane da noi e quindi è veramente l'anno della ripartenza. Sono contento da amministratore e da sindaco di San Bartolomeo al Mare di essere l'artefice insieme a tanti buoni collaboratori di questa ripartenza. La soddisfazione per ritornare sul palco anche da parte del direttore artistico Cristian Lavernier. Si riparte finalmente dopo due anni di stop, devo ringraziare ovviamente il sindaco Valerio Urso, l'amministrazione, la regione, l'associazione Rovere d'Oro e tutte le persone che ci hanno aiutato per ripartire. Quest'anno dal 19 al 24 luglio il Rovere d'Oro torna sul sagrato della Madonna della Rovere a San Bartolomeo. I ragazzi sono felici di poter ricominciare davvero, sono ragazzi che studiano tantissimo per arrivare a dei livelli ovviamente da concorso mondiale come è un concorso Rovere d'Oro e avremo la possibilità di ascoltare loro, di ascoltare i maestri, avranno delle borse di studio, un tema importantissimo che per me è fondamentale. Infatti oggi dicevo l'anno prossimo il mio obiettivo è quello di aumentare le borse di studio perché i ragazzi hanno dei sogni da difendere e noi vogliamo stare al loro fianco per questo.